E' stato colpito con un pugno al volto, senza alcun motivo, mentre si recava ad acquistare le sigarette e ha sbattuto violentemente la testa. Lotta tra la vita e la morte. Giuseppe Zizzi, un pensionato 75enne originario di Ostuni, ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Cardarelli di Napoli, città nella quale vive da tempo. A colpirlo è stato un giovane di 18 anni, pare con problemi psichici, arrestato subito dopo dei carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, il 18enne stava uscendo dal bartabaccheria di via comunale Napoli, dove stava entrando per comprare le sigarette il pensionato stunese. Quando si sono incrociati all'ingresso del negozio, il giovane ha sferrato un pugno violentissimo al volto del 75enne, che è caduto sbattendo la testa e procurandosi lesioni multiple al cervello. Trasportato d'urgenza in ospedale, è stato operato ed è in prognosi riservata, ricoverato prima nel reparto di terapia intensiva e poi in quello di neurochirurgia dell'ospedale Cardarelli. Poche ore dopo, utilizzando anche le immagini di videosorveglianza della tabaccheria, i carabinieri hanno identificato e arrestato il 18enne e lo hanno rinchiuso nel carcere di poggio reale. Sarebbe affetto dal disturbo della personalità con manifestazioni psicotiche. Il giudice valuterà se tenerlo in cella o affidarlo a una struttura specializzata.